Grave incidente domenica pomeriggio in via Gaetano-Andria a Giffoni-Vallepiana, dove una moto ed un'auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. I feriti sono stati soccorsi dalla Croce Bianca e dagli operatori del Vopi, che in pochi minuti, insieme alle forze dell'Odine, sono giunti sul posto. Ad avere la peggio due ventenni, un ragazzo ed una ragazza, che si trovano attualmente ricoverati in prognosi riservata presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona.